Successione degli accordi del brano Il gatto e la volpe con l'accompagnamento 2. Accertati di saper fare bene questo accompagnamento prima di intraprendere questo studio. La successione è divisa in prima, seconda, terza strofa più il ritornello, che sono rispettivamente contrassegnate dalla lettera A, B, C e D. Sugli accordi, come puoi vedere, c'è scritto un numero. Il numero, quando c'è scritto 4, vuol dire che quell'accordo va suonato una volta con l'accompagnamento 2. Quindi il loop, che è l'accompagnamento 2, viene usato una volta soltanto. Se c'è scritto 4 per 2, lo suoni due volte. Bene, prepara il Do maggiore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La minore Re minore Sol Do La minore Re minore Sol Do Mi maggiore La maggiore 4 per 2 Re minore Re minore Re minore Do Do La minore Do La minore La minore La minore Seconda strofa, lettera, Do La minore Re minore Sol 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 Do Do La minore La minore Re minore Sol Do Do Mi maggiore La maggiore 4 per 2 Re minore Re minore Re minore E' la maggiore Do La minore Re minore Sol Do La minore Re minore Sol Do Mi maggiore La maggiore 4 per 2 Re minore Sol Do Do settima Fa maggiore Ritorniamo Sol Do La minore Re minore Sol Do Do settima Fa maggiore Sol Do minore 4 per 2 Re 4 per 2 Sol 4 per 2 Do 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 Grazie a tutti.